Dispiace innanzitutto per non aver dato una continuità al ciclo di partite che stavamo portando avanti. Oggi purtroppo è stata una partita sporca, una partita dove ci saranno tante squadre in Serie C che si chiuderanno e lanceranno sui palloni. Purtroppo mi ha fatto tanto fatica a recuperare la seconda palla e a farci trovare subito in fase offensiva e questo è stato un pochettino l'emblema della giornata. Abbiamo pagato due episodi che ci hanno condannato, purtroppo ci sono partite che incappi in certi episodi che ti condannano e devi rimboccarti le maniche e ripartire già da martedì lavorando in vista delle prossime partite. Credo che comunque tutti i ragazzi che ci sono all'interno dello spogliatoio siano qua e dimostrano ogni giorno anche in allenamento di essere presenti per la categoria e di essere importantissimi. E' chiaro che magari partite come quelle di oggi poi dopo vivi anche su quelli che sono gli episodi. Sicuramente dobbiamo ricominciare a pedalare, nel senso che dobbiamo cercare di trovare subito un ciclo di vittori di tre, due o tre partite che ci consentono poi dopo di rimanere agganciati alla Reggiana, in questo caso che sta facendo bene e arriveranno magari anche per loro tempi bui.